Buongiorno a tutti, sono Andrea e oggi rappresento la nuova generazione di Alfa Pizza 36 anni di storia e 200.000 forni venduti ci hanno resi l'azienda leader del settore forni a legna sia per la casa che per la pizzeria Per ogni esigenza il prodotto giusto per voi La linea Forninox, la nuova gamma con cupola in acciaio inox e piano in refrattario La linea Forniref, i nostri forni tradizionali per chi ama il fai da te Ed infine la linea Fornipro, prodotti professionali scelti dalle migliori pizzerie del mondo Grazie